Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Buongiorno! Nelle letture bibliche della liturgia d'oggi, risuona per due volte la parola testimoni. La prima volta è sulle labbra di Pietro. Egli, dopo la guarigione del paralittico presso la porta del Templo di Gerusalemme, esclama «Averde ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Non ne siamo testimoni». La seconda volta è sulle labbra di Gesù risotto. Egli, la sera di Pasqua, apre la mente dei discepoli al mistero della sua morte e risurrezione. E dice loro, di questo, voi siete testimoni. Gli apostoli, che videro con i propri occhi il Cristo risorto, non potevano tacere la loro straordinaria esperienza. Egli si era mostrato ad essi affinché la verità della sua risurrezione giungesse a tutti mediante la loro testimonianza. E la Chiesa ha il compito di prolungare nel tempo questa missione. Ogni battessato è chiamato a testimoniare con le parole e con la vita che Gesù è risotto, che Gesù è vivo e presente in mezzo a noi. Tutti noi siamo chiamati a dare testimonianza che Gesù è vivo. Possiamo domandarci, ma chi è il testimone? Il testimone è uno che ha visto, che ricorda e racconta. Vedere, ricordare e raccontare sono i tre verbi che ne descrivono l'identità e la visione. Il testimone è uno che ha visto con occhio oggettivo, ha visto una realtà, ma non con occhio indifferente. Ha visto e si è lasciato coinvolgere dall'evento. Per questo ricorda non solo perché sa ricostruire in modo preciso i fatti accaduti, ma anche perché quei fatti gli hanno parlato e lui ne ha colto il senso profondo. Allora il testimone racconta, non in maniera fredda e distaccato, ma come uno che si è lasciato mettere in questione e da quel giorno ha cambiato vita. Testimone è uno che ha cambiato vita. Il contenuto della testimonianza cristiana non è una teoria, non è un'ideologia o un complesso sistema di presenti e viventi, oppure un moralismo. Ma è un messaggio di salvezza, un evento concreto, anzi, una persona. E' Cristo risorto, vivente e unico salvatore di tutti. Egli può essere testimoniato da quanti hanno fatto esperienza personale di Lui. Nella preghiera e nella Chiesa, attraverso un cammino che ha il suo fondamento nel Vandesimo, il suo nutrimento nell'Eucaristia, il suo sigillo nella Confirmazione, la sua continua conversione nella Penitenza. Grazie a questo cammino, sempre guidato dalla parola di Dio, ogni cristiano può diventare testimone di Gesù Vincontro. E la sua testimonianza è tanto più credibile quanto più traspare da un modo di vivere i Vangeli. La sua decisioni è un'esplosione di Gesù Vincontro. Se invece il cristiano si lascia prendere dalla comunità, dalla vanità, dal egoismo. Se diventa sordo e cieco alla domanda di risurrezione di tanti fratelli, come potrà comunicare Gesù vivo? Come potrà comunicare la potenza liberatrice di Gesù vivo e la sua tenerezza di vita? Maria, nostra madre, ci sostenga con la sua intercessione affinché possiamo diventare, con i nostri limiti ma con la grazia della fede, testimoni del Signore risorto.